C'è una squadra che sta vivendo un momento strabiliante, non perde da sei partite consecutive, ha vinto le ultime tre e sa come si battono le grandi del girone. E il Martina dei presidenti Piero La Carbonara e Luciano Soldano e il Martina per la quinta stagione di fila di Massimo Pizzulli come timoniere è la realtà che vanta un'età media in rossa molto bassa pari a 21,04 anni e di 22 anni esatti invece l'età media dei ragazzi terribili che domenica scorsa hanno sbancato il San Francesco d'Assisi e battuto la prima della classe in precedenza ma è sconfitta nelle prime dieci giornate del campionato di Serie D col paccio contro la nocerina tra l'altro firmato da due piccoletti del gruppo Francesco Tuccetto 2004 e Mattia Mastrovito 2005 entrambi martinesi doc un pomeriggio meraviglioso insomma. È stata una giornata bellissima perché come sapevi la nocerina non aveva mai perso e noi siamo andati lì impostando il nostro gioco comunque è derivata questa grandissima vittoria ma sinceramente eravamo consapevoli noi della forza del gruppo si ravvise già nelle giornate precedenti come Mati era Virtus Trancavilla e ora dobbiamo continuare su questa strada sempre con i piedi per te. Tre vittori di fila tre squadre di valore battute Matera e Virtus Francavilla prima dalla docerina altre tanti pareggi in precedenza per una serie aperta di sei risultati utili consecutivi se il Martina non è in alto in classifica e per i quattro punti collezionati nelle prime cinque gare anche e soprattutto per colpa di infortuni indisponibilità e necessità di creare il giusto feeling tra i tanti nuovi calciatori. Si sa quando puoi fare una squadra nuova comunque non parti bene le prime giornate però poi inizia a vedere i risultati positivi dopo otto o nove giornate ti fa rosicare un po' però noi ora siamo tranquilli siamo molto più sereni dopo che hai più consapevolezza dopo aver vinto anche con la capolista la nocerina. Fa specie ma Pia Rulli classe 2001 è uno dei più anziani del gruppo succede questo ad un Martina che con la vittoria Vino Cera si è sistemato nella parte sinistra della classifica sognare ora si può? Dobbiamo stare sereni noi giocheremo sempre per vincere come abbiamo sempre fatto sia inizio stagione che come le cose non andavano molto bene come ora che veniamo da tre vittorie consecutive noi dobbiamo stare tranquilli giocare allenarsi sempre al massimo. E' arrivato al Torsi nel mese di gennaio ed è subito diventato pilastro insostituibile nel centrocampo del Martina. Savio Pia Rulli da Andrea è un fedelissimo di Massimo Pizzulli sin ai tempi del Bitonto gli manca una sola cosa per chiudere il cerchio il primo gol con la maglia bianca azzurra lo ha sfiorato più volte in particolare contro il Grabina ad inizio settembre in un paio di occasioni nella gara di Coppa Italia contro l'Angri domenica prossima in casa sarà la volta buona? Io lo spero che arriva più presto così mi sblocco anche mentalmente perché il gol ti aiuta sempre però l'importante che arriva alla vittoria della squadra.